La transizione ecologica in Sicilia può essere una grande opportunità per ridisegnare il nostro apparato economico e produttivo, sia nei settori dell'industria sia nel settore agricolo. Per questo noi riteniamo che sia necessario che in una stagione in cui la Sicilia è dotata di tantissime risorse economiche, dai PNRR all'FSC, al FERS, ai Piani Operativi, ci siano davvero investimenti per una riconversione vera del nostro apparato produttivo a partire dal settore industriale. Però non ci può essere un cambio di transizione dell'industria senza un ragionamento serio sulle politiche energetiche. Noi abbiamo tanto apparato produttivo che purtroppo dipende dal fossile e noi abbiamo la necessità di investire non soltanto sulle fondi rinnovabili ma sull'intera filiera delle fondi rinnovabili. E dentro questo scenario è davvero grave che il governo della regione non apra una discussione seria con i grandi player nazionali coinvolgendo il governo nazionale come Eni e come altri per provare a far sì che la Sicilia possa diventare un vero hub dell'idrogeno. Questo potrebbe dare risposta sia sulla filiera dell'idrogeno e quindi in termini di occupazione ma anche per riamodernare l'intero apparato produttivo della nostra regione. A proposito di apparato produttivo, i nostri imprenditori sarebbero pronti? Ma non c'è dubbio che i grandi processi di trasformazione non possono essere fatti dalla piccola e media impresa. La piccola e media impresa può essere aiutata a fare questi processi ma abbiamo la necessità della presenza di grandi player nazionali. Per questo io ritengo che vado aperto una discussione con Eni, Leonardo, Enel, altre grandi aziende perché non c'è dubbio che abbiamo bisogno di grandi investimenti, abbiamo bisogno di nuovo know-how e quindi sotto questo profilo noi abbiamo bisogno certo del consenso delle piccole e medie imprese ma abbiamo bisogno di un grande investimento che passa attraverso la presenza di grandi player che possano fare da apripista.